Si preparano, uniranno a registrarlo, uniranno a registrarlo, uniranno a registrarlo, uniranno a registrarlo. Vai domani! Sui piedi, Giorgio! Vieni! Vai, non se comi! Vince, paro, non cessa e si classifica al primo posto. Lavora, lavora! Sono tanti anni per questa annuncia, Andrea. Vai in leva, in leva! Vai dentro la gamba! La gamba, la gamba, la gamba, la gamba! Si, si! Si, 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 si! Buongiorno! Eh si! Oh, Gio! 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 Doministero! Gio! Gio! Giovanni guardia a sinistra Non è in guardia a sinistra Sopra Sì, 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 vai sopra, sopra Strangola, strangola Categorie 8,1, più grande e maschili Invenzione, categorie, cadetti femminili Grazie a scopre gare di smesse il povero favore Invenzione, cadetti femminili Involuzione, cadetti femminili Involuzione, uccia, uccia Involuzione, uccia Involuzione, uccia Involuzione Involuzione, uccia Involuzione